In Gis e I Lungamurra i campioni nel doppio misto, Roger barra Tecao nel doppio maschile, Sub barra Avu nel doppio maschile Junior e Sloane Stepens nel singolare femminile. Per quanto riguarda il tennis in carrozzina la Coppa Laptorne barra Avagnera ha sollevato il trofeo nella specialità doppio quad, Evit barra Reign hanno vinto il doppio maschile e le olandesi Bus barra De Groot quello femminile. Finora l'US Open 2017 ha decretato questo, ma ci sono diversi altri trofei da assegnare. Oltre al singolare maschile, la cui finale verrà disputata da Nadal e Anderson, nella giornata che chiude l'ultimo slam dell'anno si giocheranno anche le finali del doppio femminile, dei tre rimanenti tornei Junior e dei tornei maschile e femminile, singolare, di tennis in carrozzina. Ah, sul campo 5 c'è anche la finale di doppio del torneo femminile Vecchie Glorie. Niente meno che Davenport barra Fernandez contro Navratilova barra Clygesters, ieri i fratelli Mccindro e hanno vinto il corrispettivo maschine.